Ciao, sono Daphne e sono una giusta onorata al Giardino di Milano, perché ho soccorso i migranti di Lesbo e li ho ospitati nel mio albergo. Se vuoi conoscere la mia storia, vienimi a trovare al Giardino dei Giusti al Monte Stella e scarica l'audio guida per ascoltare tutte le storie che questo meraviglioso luogo ospita. Sai, non sono l'unica giusta dell'isola di Lesbo, altre persone sulla mia bella isola hanno aiutato i migranti e per questo sono stati onorati nel Giardino Virtuale. Scopri le loro storie e il Giardino Virtuale sul sito di Garifo. Grazie.